Quando preghiamo il credo, noi diciamo credo in un solo Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Nell'ambito di queste cose invisibili ci sono gli angeli. Gli angeli infatti sono esseri, puri esseri spirituali, personali, autocoscienti, con un'intelligenza anche superiore a quella dell'uomo, una memoria anche più potente, con una volontà, con una libera volontà, con il libero arbitrio. E Dio ha creato gli angeli, li ha creati tutti i buoni. Però poi c'è stato un angelo, il cui nome è Lucifero, che prima era una luce del paradiso, l'angelo più bello del paradiso, che si è ribellato a Dio e poi voleva essere come Dio. E quindi dall'essere l'angelo più bello, praticamente si è abbruttito, perché si è allontanato da Dio, si è ribellato a Dio. Lui voleva essere come Dio. Non ha accettato la sua dimensione angelica, ma anche di creatura. Perché è anche una creatura e quindi si è ribellato a Dio. E questa sua ribellione ha portato anche una parte delle schede angeliche a ribellarsi a Dio. E così sono nati i demoni che si sono autocreato l'inferno. Cioè Dio non ha creato i demoni e l'inferno, ma gli angeli buoni da soli si sono voluti autocorrompere, ribellandosi a Dio, e quindi hanno creato l'inferno. Quindi all'inizio Dio ha creato il paradiso, l'inferno. L'inferno ha creato i demoni che si sono ribellati a Dio. Gli angeli, vedi, sono presenti nella nostra vita, c'è un grande mistero. Ci sono i nove cori angelici. A questo proposito ti invito a pregare la corona dei nove cori angelici, di San Michele Arcangelo e dei nuovi cori angelici, che è veramente bella. Attraverso questa corona angelica, la persona che la prega chiede la protezione di tutti gli angeli del paradiso. E quindi ci sono gli angeli del paradiso che sono angeli buoni, ci proteggono, e hanno un'influenza anche nella nostra vita. Anche gli angeli custodi accanto a noi che ci aiutano. Però c'è anche un'azione, anche nefasta, un'azione negativa, un'azione malefica, un'azione subdola, malvaggia, ecco da parte dei demoni, degli angeli ribelli nella nostra vita. E quindi noi, che siamo creature umane, in questa vita terrena diventiamo come, possiamo dire così, il terreno di battaglia loro. Perché gli angeli buoni cercano di portarci a Dio, gli angeli cattivi cercano di portarci lontani da Dio. E noi dobbiamo decidere da che parte stare. È ovvio che noi vogliamo stare dalla parte di Dio. Dio è bellezza, Dio è amore, Dio è verità, Dio è pace, Dio è umiltà, Dio è gioia infinita. Invece il demonio vive in una tristezza infinita, in un'invidia infinita, in una bruttezza infinita. In una bestemmia contro Dio infinita, praticamente continua. Quindi noi non vogliamo stare contro Dio, non vogliamo stare con Dio. E questa vita terrena per noi diventa anche come un campo di prova per vedere se amiamo Dio o non amiamo Dio. Perché anche l'uomo, col suo libero arbitrio, può decidere liberamente se stare con Dio o stare contro Dio. E quindi praticamente l'uomo che va contro Dio e che dice un no definitivo a Dio per l'eternità, poi si autocrea anche lui il proprio inferno. Quindi queste persone diventano dannate, le anime dannate. Invece una persona che ama Dio riceve il suo posto in paradiso. Noi vogliamo amare Dio, noi vogliamo stare con Dio. Mettiamo da parte tutte le cose negative, gli odi, i rancori, i visi capitali, tutte le bruttezze che il mondo ci propone. E invece dedichiamoci alle cose di Dio, alla preghiera, a coltivare anche tutto ciò che Dio vuole da noi, a mettere in pratica il Vangelo, ad alimentare in noi le virtù cristiane e ad amare Dio. Anche noi in questa vita terrena siamo chiamati a decidere. Ognuno di noi deve stare con Dio. E Dio, quando noi vogliamo stare con Dio, Dio si compiace di questa scelta, gioisce. Perché davanti a Lui siamo come dei figli prediletti, che ci ama infinitamente. Noi che siamo esseri umani, noi creature umane, vogliamo passare tutta l'eternità con Dio. E quindi bisogna vivere questa vita terrena in grazia di Dio. A questo proposito invito anche tutte le persone che non si sentono in grazia di Dio, tutte le persone che hanno commesso dei peccati, anche peccati gravi, ad andare da un sacerdote per confessarsi. Perché nel momento della confessione il Signore purifica la nostra anima. Ricordatevi il Salmo, no? Lavami, Signore, sarò più bianco della neve. Cioè da parte di Dio c'è tutto l'amore per noi, la volontà di perdonarci, la volontà di purificarci. Per questo, vedete, anche se una persona avesse vissuto in comunione con il diavolo, supponiamo, ecco per tanti anni, avesse fatto tanto male alle persone, però veramente poi si pente, va dal sacerdote, chiede perdone e cambia vita, poi Dio accoglierà quella persona in Paradiso. Quindi, come ci dice anche il Catechismo della Chiesa Cattolica, non disperiamo mai della salvezza. Cioè noi sappiamo che il Signore è buono e misericordioso, ci perdona e ci ama. E quindi a questo proposito vi volevo dire di alimentare sempre di più la fiducia nella misericordia di Dio. Il Signore ti benedica. Il Signore ti benedica.